Ascoltando un podcast sulla vita dei gorilla mi sono ricordata di un episodio di quando mio figlio era molto piccolo. Il fatto dei gorilla è questo, i gorilla hanno una gestazione di otto mesi e mezzo, quindi molto molto vicino alla gestazione delle donne, degli esseri umani. E stanno, dormono insieme al bambino, il gorilla se lo tengono attaccato, ora non so se lo allattino, comunque fino ai tre anni se lo tengono sempre attaccato addosso. E questo mi ha ricordato un episodio appunto che è successo quando mio figlio era molto piccolo, quando mio figlio è nato in Australia, io ero sola con mio marito. Non c'era una mamma, una nonna, una zia, neanche amiche che avessero figli piccoli, quindi ero un po' abbandonata a me stessa per quanto riguarda le rassicurazioni e le diverse teorie su come, cosa fare quando c'è un neonato a casa. E mio figlio piangeva, quindi la notte che faceva, lo prendevo in braccio. Ora in Australia c'è questa scuola di pensiero, che è una scuola di pensiero americana, quella del control crying, cioè il pianto controllato, che dice quando il bambino piange e tu vai e lo prendi in braccio, lo stai abituando al fatto che piangere è un modo per chiamarti e per farti arrivare. Quindi se vuoi che smetta di piangere soprattutto la notte, quando si sveglia, tu non andare, il bambino imparerà a riaddormentarsi da solo e risolverà tutti i problemi tuoi. La cosa a me non mi aveva convinto molto, infatti non avevo neanche provato a farlo perché non mi sembrava una cosa naturale, anche perché provatevi ad addormentarvi quando c'è il bambino che piange. E quindi visto che sono una persona un po' precisina, mi misi a fare le mie ricerche e, come vuole il caso, proprio in quei giorni a Melbourne c'era una conferenza, non mi ricordo su che cosa fosse, sull'infanzia, sulla psicoforcia, sulla psicologia, comunque c'era l'intervento di un luminare che avrebbe parlato anche del control crying. Quindi io mi precipitò questa conferenza e praticamente questo signore aveva detto ma voi siete mati, ma lo sapete che i gorilla, le scimmie, si tengono i bambini e vanno a tranquillizzarli quando piangono, ma voi siete mati, ma lasciate stare queste cose che sono degli americanate. La cosa mi piace tantissimo, tanto che alla fine della conferenza andai a parlare con il luminare e gli raccontai che io sono una neomamma, ero in forze sia adottare o meno questo approccio. E lui mi diceva, ma lei è una mamma italiana, ma lei è matta, ma vada e si prende il figlio e se lo abbracci, lo consoli, che l'unica cosa che sta insegnando al bambino quando non va e lui piange è che piangi quanto ti pare, e non c'è nessuno che viene a salvarti, non c'è nessuno che qua con te sei solo al mondo. Faccia quello che le dice il suo cuore di mamma che va bene così. È andata bene così.